Musica Salve a tutti ragazzi, bentornati qui da PUBG Games Oggi parleremo di PS16 e vorrei parlarne sia dei preci e sia i difetti che ha ora questa demo Innanzitutto il primo difetto sono ancora i portieri, sono troppo troppo lenti in confronto a FIFA 15 Ecco, guardate questo gollo, adesso ditemi voi come fa a esserci una sfida se i portieri sono così Sono lenti, non c'è l'uno contro uno tra il portiere e il giocatore Sulla maglia pare che non hanno una semplice maglietta, pare che hanno una maglietta a cui pesi sopra come la Dragon Ball Non riescono a buttarsi velocemente come su FIFA e questo pecca molto Però in confronto finalmente hanno aggiustato i giocatori, sono più fluidi, sono più veloci, i passaggi sono molto più reattivi Come vedrete ora, adesso farò gol, no, me l'ha parato Però diciamo che su certi tiri il portiere ci sta, ma a certe volte è un po' surreale i gol che vengono fatti qui sulla demo Questo nuovo pass 16 Questo vabbè era scontato, al fine poteva capitare anche su FIFA Ora qui vedrete che finalmente ha messo pure le esultanze E poi volevo dire anche l'aspetto fisico dei giocatori Sono molto buoni, abbastanza surreali Ora un attimo, scusate ragazzi Ecco, poi volevo dirvi anche questo Io praticamente gioco vi dico i difetti che ha Ad esempio ora Doria doveva essere rigore E non è rigore Qui ho sbagliato tasto che in pratica sarebbe comandi speciali Mi è partita una finta del fallo Però anche questa diciamo è carina Perché alla fine se sei un attimo abile Mentre vedi che quello ti sta a mettere il penino davanti Fai la finta del fallo e ti frega il fallo Però per esempio qui a me mi ha messo cartellino giallo Non fa vedere l'animazione Forse spero che non sia la demo Ma l'animazione non me l'ha fatta A vedere che mi ha dato cartellino giallo Spero che non l'hanno eliminata Poi un'altra cosa Non so se avete fatto caso su PS15 C'era una specie di immagine a fondo campo Che assomigliava a un tipo cartellone Scusate se ritorno di nuovo ai portieri Ora avrete visto che Avrete visto che il portiere a buttarsi è molto molto lento Quindi chiedo alla Konami Fate qualcosa Un aggiornamento Qualsiasi cosa Ma rendete il portiere Più veloce Guardate com'è la velocità su FIFA E rendetelo in quel modo Non intendo copiarlo Però A meno Dagli spunto Poi volevo E stavo dicendo Dei cartelloni Non è un semplice cartellone È un disegno Che sta a fondo campo Che assomiglia a un cartellone Però è brutto Cioè finalmente Spero che l'hanno levato Perché io su questo campo Non lo vedo Spero che l'hanno levato Perché faceva un po' più cacare A meno se volete lasciarlo Mettetelo come cartellone È molto più carino Poi volevo anche Precisare sulle squadre Ci sono Un bel po' di squadre Che mancano Che mancano Che poi Queste squadre Stanno anche nella Champions League Come il Borussia Ora non mi ricordo Qualche altra squadra Però Dovete inserirle Queste squadre Cioè Come fa ad esserci un pallone Che manca le squadre E allora È normale che dopo Si vanno su FIFA I giocatori I giocatori Poi volevo anche Anche precisare questo tiro Ora io non lo so Se l'avrebbe Non mi ricordo Se l'avrebbe parata Su FIFA Però Al gol precedente Che avevo fatto Il secondo Lì Il portiere L'avrebbe parata Perché l'aveva tirata Quasi centrale Le animazioni Sono fatte benissimo È fatto tutto bene Ora Cara Konami Ti manca solo Velocizzare Il portiere E già si può Avere una sfida Molto più Equilibrata Ecco per esempio Qui ragazzi Finalmente hanno cambiato Qualcosa Quando Perdi palla Lo stesso giocatore Riesci a riprenderti Palla Che si rialza subito Come avrete visto Migliorate più I falli Perché qui Tra un po' Il pass 16 Diventerà I gladiatori Dei giocatori L'albero Pare che Si è preso Un cappuccino Andato al bar Qui tra un po' Il pass 16 Tra un po' Chiameremo Il gioco Dei gladiatori Io Ok Il mio voto Gli do Un 7 e mezzo Per semplice motivo Che ha messo Le entrate Ha aumentato La velocità Sui giocatori Ora i giocatori Hanno abbastanza Riflessi Per prendere subito Palla Poi Vi ricordate Che Aveva quel difetto Che quando perdeva Palla Sporruto Ora l'hanno corretto Lo stesso giocatore Riesce ora A prendere palla La grafica Normale Nulla da dire Sono abbastanza reali I movimenti Si vedono anche Vedendolo dall'alto Anzi Se voi andate a vederlo Molto da vicino Vedrete proprio La perfezione Dei giocatori Ma deve correggere Quei difetti Che ho appena detto Nel video Vorrei Intanto Che mettessero I nomi reali Dei giocatori I nomi reali Delle squadre A mio parere Se siete contrario Scrivete nei commenti Io non vi mangio Mica Anzi Se mi trovate Molti pregi Su questo PS16 Anzi Vi ringrazio E potrei anche Andarlo a comprare Ma di sicuro 50 euro Non ce li spendo Levate Dalle palle Questa cosa qua Spero che lo fate Anche per le console Però non so Come sarà Vi ringrazio Per aver visionato Questo video Lasciate un like Commentate Condividete E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao ragazzi Alla prossima